Diamo il buongiorno ai nostri ospiti invece, sono arrivati qui a trovarci Lilo, buongiorno Lilo Buongiorno Ed Elettrico Buongiorno a tutti Questi sono i loro road name, sì, avete dei road name perché voi siete gente che va in strada con le moto, no? Sì, esatto Sono dei bikers, anzi sono i BACA, i Bikers Against Child Abuse Buongiorno e benvenuti, adesso bisogna capire, queste sono le informazioni, ma dovete farmi capire che cosa sono perché troppe informazioni Allora, bikers, va bene perché avete... Bikers Che moto avete? Giusto così, per sapere, che moto avete? Io ho una Honda Shadow Ah, anche mi collesso ce l'ha Arley Vabbè, tu sei proprio cla... Cioè, allora io vi invito anche a collegarvi a guardarlo, cioè tu sei proprio lo stereotipo, però L'Arley, la barbalunga, a me manca solo l'Arley, a me manca anche il gillerino Il gillerino che è fondamentale perché appunto vi fa capire che fate parte di questa associazione che si chiama BACA Che è qualcosa di molto interessante a livello internazionale e che appunto dal 2010 esiste anche in Italia Ma che insomma, lascio parlare un po' a voi, perché è più facile, perché me la spiegate in maniera giusta a voi Che cos'è BACA? Allora, BACA è una organizzazione di volontariato che si occupa di bambini vittime di abuso È un'associazione nata già nel 1995 in un piccolo stato degli Stati Uniti, nello Utah E si è poi propagata a macchia d'olio in tutto il mondo L'Italia è il primo paese europeo dove è arrivata BACA nel 2010 E ad oggi conta già dieci sedi operative e tre informazioni Allora, voi appunto con la moto, nel senso diciamo, andate a dare un supporto a dei bambini appunto vittime di abusi Però non è una cosa fatta così, cioè, diciamo, c'è un'organizzazione dietro Come funziona e come si è arrivata appunto alla creazione di questa organizzazione? Allora, BACA è un'organizzazione molto strutturata E prima di potervi, diciamo, accedere ci sono dei requisiti ovviamente E c'è tutto un periodo di formazione che dura almeno due anni Un periodo di formazione e un periodo di osservazione anche Perché bisogna capire bene anche come ci si rapporta anche con i bambini Anche proprio a livello personale Questi bambini da dove arrivano? Chi sono? Come è entrato in contatto con queste storie? Allora, i bambini arrivano solo tramite casi denunciati E quindi ci arrivano solo ed esclusivamente tramite tutti quegli enti statali Magari anche professionisti, eccetera Quindi servizi sociali, tutte le minori Servizi sociali, tutte le minori, psicologi e quant'altro Che ci propongono il caso e quindi lo prendiamo in carico e viene, diciamo, seguito Ecco, ma come, elettrico, come si diventa? Un BACA, è giusto? Un BACA si diventa... Un BACA Un BICERS che diventa BACA, com'è? Un BICERS che diventa BACA, come diceva la Lila, ha un periodo di formazione che dura circa due anni Due anni, scusate In cui fa strada con i fratelli Non andiamo a chiamarci fratelli e sorelle tra di noi Siamo una grande famiglia E in questo periodo appunto fa una formazione per poter arrivare poi a dare una mano concretamente a questi bambini Ok, ma prima di questo, com'è che a uno gli viene in mente di diventare un BACA? Cioè, a te come ti è venuto, elettrico? Ma allora, cioè, ognuno ha il suo motivo personale Che sono i più disparati Teniamo presente che Più che il motivo per cui uno entra in BACA La cosa che è importante è il focus È l'obiettivo Quindi aiutare i bambini in vittime di abuso E come vengono aiutati questi bambini? In che maniera? Cioè, che cosa fate concretamente poi con questi bambini? So che, ad esempio, tu hai fatto degli interventi in altre città d'Italia e quindi Allora, i bambini Noi aiutiamo questi bambini con la nostra presenza fisica Ok Quindi usando come anello di congiunzione proprio la moto tra noi e i bambini Cosa si fa nello specifico? Ci sono disparate cose da fare Questo varia a seconda dell'esigenza appunto del bambino Noi abbiamo dei protocolli da seguire Ma sono dei protocolli che vengono modificati Tra virgolette A seconda di quelle che sono le esigenze proprio del minore Siamo strutturati in modo per cui Quando un bambino viene a far parte della nostra famiglia Che gli viene dedicato a prendere una giornata a tutto per lui Gli viene consegnato il suo gillerino con il road name Ah, quindi ogni bambino prende un road name anche lui? Prende un road name anche perché comunque noi i membri di Baca si preoccupano di tutelare tutto quello che è la sfera del minore Anche per un discorso di privacy Quindi non sappiamo assolutamente qual è il suo nome, cognome e quant'altro Noi lo conosciamo con il road name come lui ci conosce con i nostri road name Questo è interessante perché non è solo un discorso di anonimato fine a se stesso Oppure di avere il gillerino col nome bello È proprio un discorso di tutela della privacy Di una persona quando Privacy in questo caso è usato nella migliore delle eccezioni Non come al solito che ne abusiamo di questa parola In questo caso invece almeno Sono quella cosa lì per te Io sono lillo, io sono elettrico Non ti interessare di cos'altro sono In quell'istante sono quella cosa lì Come reagiscono questi bambini quando vedo arrivare questi brutti ceffi in moto Malintenzionati che invece sono benintenzionati Eh dipende, dipende anche in questo caso dal bambino stesso Il brutto ceff ovviamente diceva te Immaginavo, immaginavo Dipende molto anche in questo caso dal bambino Cioè chi non si preoccupa Fondamentalmente i bambini non hanno un pregiudizio Ah eh, questo è interessante Eh sì, sì E quindi questa cosa gioca tra virgolette a nostro favore Poi vedono questi brutti ceffi come dicevi tu Però siamo lì per lui E questa è una cosa che gli è chiara abbastanza da subito La cosa fondamentale è che in quella giornata O nei vari incontri che si fanno Noi siamo lì per lui, punto Per nessun altro motivo Non ci interessa quello che è successo Ci interessa ridargli forza Cioè fargli riscoprire la forza che ha in se stesso Alzare in lui la sua autostima E cercare di riportargli la fiducia nel mondo degli adulti Che purtroppo sono persi E quello è fondamentale E' interessante come appunto degli adulti cercano di far capire alla bambina Non tutti gli adulti sono uguali E quel momento è importantissimo Ma allora rimanete qui Perché adesso ci ascoltiamo un brano Poi comunque voglio capire meglio Quello che avete fatto in questi anni Cosa si potrebbe fare E anche facciamo un appello Che magari le istituzioni milanesi Incomincino a sapere che ci siete E tenervi in più in considerazione Su magari quei casi Che insomma a Milano Ahimè ce ne sono tanti Quindi purtroppo Ci piacerebbe tanto non aver bisogno di Bacca Ma invece c'è bisogno E per fortuna ci siete Quindi fra poco Ancora qui con Lilo ed Elettrico Qui su Crystal Radio A Good Morning Milano Adesso è il momento di David Bowie con Heroes David Bowie con Heroes You can be heroes just for one day E chissà se qualcuno vi definisce eroi No? Non lo so Bacca siete degli eroi? No non siamo degli eroi Gli eroi sono i bambini I bambini sono loro Gli nostri eroi E allora Lilo Spreghiamo un po' come funziona Allora nel senso Facciamo finta che adesso Suona il telefono È la tutela minori Del tribunale di Milano E dice Ho un caso per voi Boom Da quel momento cosa succede? Da quel momento succede Che c'è una figura preposta In Bacca Che si chiama Chai Lieson Ok Ed è la persona Tu sei la Chai Lieson Io sono la Chai Lieson Chai Lieson Che cosa fa il Chai Lieson? Il Chai Lieson va All'appuntamento Dove viene proposto il caso Dove viene proposto il caso Parla del caso Con chi lo propone Quindi viene a conoscenza Di tutto il caso Nomi, cognomi Quello che è successo E quant'altro Valuta In primis Diciamo Se può essere un caso Per Bacca Lo porta poi al direttivo Perché abbiamo un direttivo Diciamo Ogni sede ha un suo direttivo Lo propone Se il caso Tutti Diciamo Aderiscono E Dicono Ok Va bene Caso per Bacca Torna E dice Ok Prendiamo il caso Si firma un documento Protocollo è tutto Protocollo è tutto E a quel punto Poi Tu hai in mano Diciamo il caso Però non sarai tu A intervenire sul caso Non è il Chai Lieson Che intervene sul caso Cosa succede? La figura del Chai Lieson È stata anche Pensata Per tutelare La privacy Del minore E della sua famiglia In quanto Tutte le informazioni Che riceve il Chai Lieson Nomi, cognomi Appunto Tutto quello che è successo E c'è Se lo tiene per sé Se lo tiene per sé E Diciamo Può rivelare Solo alcune cose Diciamo Basilari Che possono aiutare Le persone Che poi seguiranno Il caso Qualche specifica Più tecnica Operativa quasi Operativa Per esempio Se il bambino Ha qualche particolarità Qualche cosa Che magari Non tollera O bisogna stare attenti A determinati atteggiamenti Parole Qualsiasi cosa Di dare una pacca Solo a spara qualcuno E il bambino Non aveva il contatto fisico Ovviamente Magari è meglio Saperlo prima Esatto Chiaro C'è il liaison Poi pensa già Una volta Conosciuto il caso A chi potrebbe Affidare questo caso Perché vengono assegnate Due persone Due membri Al bambino Che saranno poi I membri Che lo seguiranno Per tutto Questo percorso Perché i baca Sono sempre due Che seguono un bambino Non è mai una persona sola Sono sempre in due Sempre in due Poi a seconda Questi possono essere Una coppia Non possono essere Una coppia Amici No Spero sempre amici Possono appunto Essere diciamo Una coppia Oppure Essere formata Ad hoc Per il caso Giusto Certo Perché a seconda Del caso Il bambino Potrebbe avere La necessità Di avere Magari una donna Due donne Una donna Due uomini Dipende Una volta Dato questo Viene quindi Dato Viene fatto il match Tu sei Quella che fa il match Tra il volontario Di bacca E il caso C'è il liaison E anche la persona Che tiene i rapporti Tra la famiglia Oppure Diciamo L'ente affidatario Del bambino E che Riferisce Perché ogni incontro Fatto col bambino Viene fatto poi Un rapporto Ok Giusto E questo rapport Viene poi condiviso Con chi segue il bambino Ovviamente Perché è un lavoro In contemporanea Quanti incontri Si fanno Nel senso Come avvengono Questi incontri Immagino Che poi Durante Il caso Poi cambia Le cose Ma all'inizio Come funziona All'inizio Noi abbiamo Un protocollo Ok E gli incontri Sono Bisettimanali Due volte settimana No no Scusa Ogni quindicinali Però tutto viene calibrato In base All'esigenza Del bambino Ok Perché se il bambino Ha bisogno Di un incontro In più Si va Ok Tra l'altro Il bambino Vengono dati I numeri di cellulare Dei due membri Che gli vengono affidati E lui può chiamarli In qualsiasi momento Se lui si sveglia di notte Perché ha avuto un incubo Lui può chiamare Il suo primary E il suo primary Lo rassicura Ecco Elettrico Tu sei stato primary No? In questo caso Ok Hai dovuto rispondere di notte No Questo no Non è mai capitato Abbiamo una struttura tale Per cui Qualora ci fosse la necessità Siamo pronti a presidiare Casa La struttura dove Ha ospitato il bambino 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni all'anno Perché la cosa interessante Fondamentale Che magari ci siamo persi Ma nel senso che Voglio sempre ribadire È un discorso Soprattutto Il primo step Mi sembra di capire Che è importante È quello della presenza fisica Vostra Cioè proprio Il presidiare Essere fisicamente Visivi e presenti Giusto? Perché questo Che cosa avete capito Che dà al bambino? Noi usiamo un termine Empowerment Ok Quindi dare forza Dare forza al bambino Il fatto di rassicurarlo Tra virgolette A volte basta che ci vede Quindi magari In altre sedie In altre chapter È successo che C'era un bambino Che appunto aveva paura Di stare in casa Perché L'abusatore Era ritornato in zona E ci sono stati I fratelli Di questo chapter Che hanno passato Due giorni Tre giorni H24 Sotto la casa del bambino Per il semplice fatto Che se lui si affacciava Alla finestra Li vedeva Questo è anche Quello che facciamo In questa cosa Buck è riconosciuta In un articolo Del codice civile Che è il 403 Che prevede proprio Che durante Un allontanamento Buck è strutturato In modo Per aiutare Questo bambino A fare questa cosa Perché è quello Voi ogni volta Che arrivate Con le vostre moto Vi fate anche sentire Immagino Giustamente E quello Già forse È quel piccolo Primo passo Che il bambino Ha di fiducia Anche verso di voi Sì perché Siamo in tanti Le moto Sono grosse Rumorose Siamo grandi Tatuaglio Non guardate me Qualche tatuaggio c'è Qualche tatuaggio ho visto Ho intravisto Diamo un po' Un'immagine di forza Ok Oltretutto so che Quando un bambino arriva C'è tutta una cerimonia Giusto Che fate Allora questa Adesso va un po' Come me la raccontate Adesso andiamo un attimo In pubblicità Però quando torniamo Mi raccontate Com'è che viene chiamata La cerimonia del Level 1 Level 1 Ok Ed è il momento In cui date anche Il famoso gilet Ah beh Adesso poi me la raccontate questa Allora andiamo con un po' Di musica e poi Torniamo perché Voglio proprio raccontarvi Di questa bellissima Cerimonia Che immagino anche Bella caotica Quante moto ci sono Che in quel momento arrivano Dipende Dipende Dalle 20 anche le 80 moto Ecco appunto Immaginate voi 80 moto Ma anche solo 20 Cosa possono fare Beh possono dare Forza e tanta forza Ad esempio A quel bambino Questo è Bacca Billy Joel Uptown Girl 8 e 35 minuti Martedì 11 giugno 2024 Siamo qui con i Bacca I Bikers Against Child Abuse In questo caso Con Lilo ed Elettrico Che sono qui A raccontarci un po' Che cosa fa appunto Bacca E anzi Entriamo un po' Ancora più nello specifico Perché Abbiamo raccontato appunto Come I vari servizi Tutti da minori Oppure gli assistenti sociali Così entrano in contatto Con voi Questo succede In tantissime città A Milano Non è ancora successo Perché Spieghiamo Cari assessori Che ci stanno ascoltando Cari Tutti da minori Che ci stanno ascoltando Che so che ci ascoltano Quindi possiamo Perché no Anzi magari adesso Conoscetevi Allora già È difficile Riuscire ad avere Un appuntamento Perché comunque Non siamo Fidelle figure istituzionali Noi no Un po' Per il nostro aspetto Un po' Magari c'è un po' Di pregiudizio Magari c'è anche Un po' Di timore Perché in fondo Affidare un bimbo Vittima di abuso A uno sconosciuto Che si presenta Col gilet Con la moto Insomma Non è Non è semplice Ma anche Quando riusciamo Ad avere degli incontri E proponiamo La nostra organizzazione All'inizio Sembrano Tutti molto Ben predisposti E Molto entusiasti Anche perché Dicono Caspita Non ho mai sentito Un'associazione Che fa queste cose Eccetera Però poi Da lì Al passare Il gradino No E a dire Proviamo Ci fidiamo di voi No È È più difficile È più difficile Però la prova C'è Nel senso che In altre città Questa cosa avviene C'è Vediamo anche Di protocolli Con altre comuni Ad esempio No Sì sì Tantissimo Facciamo i nomi Di questi comuni Magari Gli assessori di Milano Chiamano Quelli di Brescia Brescia Imperia Imperia Abbiamo Rimini Reggio Calabria Reggio Calabria Reggio Calabria Anche lavorato Tra servizi Magari si fanno Una telefonata Piacenza Ottimo Sì 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 E L'importante appunto Sarebbe quello Di riuscire a entrare In contatto Quindi facciamo Un appello Proprio Vero e proprio Cerchiamo Cosa stiamo cercando A Milano A Milano Stiamo cercando Un ente Un servizio sociale Ente tutela minore Qualsiasi cosa Anche associazioni Anche quelle che Si occupano Magari Del maltrattamento Sulle donne Perché Non dimentichiamo Che anche Le donne Sono anche mamme E ci sono I bimbi Di queste mamme Quindi la violenza assistita Quindi noi possiamo Anche aiutare loro Faccio l'avvocato Del diavolo Eh ma sapete Il problema è che noi Istituzioni Non abbiamo soldi È sempre complicato Baca È assolutamente Sempre gratuito Ok Volevo capire questo Non chiediamo Un centesimo Neanche Se dobbiamo portare Fuori i bambini Che gli offriamo Un gelato E anche col costo La benzina Che c'è adesso Assolutamente Ok Quindi fa capire Insomma È un servizio davvero Che potrebbe Aiutare tanto Facciamo ancora Degli esempi Perché ci sono Degli esempi Importanti Di accompagnamento Che anche sono Diciamo Normati Anche La legge Viene normata Norma questo Come ad esempio Avete fatto gli accompagnamenti Al tribunale Giusto Come si è Siamo C'è un Un articolo Il 609 Decis Del codice penale Che prevede proprio Che l'assistenza Affettiva E psicologica Di un minore Vittima di abuso Può essere Affidato A un genitore O una persona Ad una persona Idonea Per questa cosa Logicamente Con il consenso Del minore E con Il permesso Tra virgolette Dell'autorità Che segue Il caso Nel 2021 Questa cosa È stata estesa Anche ad associazioni Non governative Gruppi Fondazioni E quant'altro Che siano preparate A dare supporto A questa Che siano preparate Perché ricordiamo Nel momento L'inizio Di intervista Però lo ripetiamo Ancora oggi Prima che Un bambino Venga dato in mano Alla coppia Diciamo Individuata Dal Chileson Passa un bel po' Di tempo Certo Cioè Da quando Entra Da qualcuno Entra in bacca E in quel tempo Che cosa avviene E quanto dura Sono almeno due anni Ok E veniamo preparati Seguendo dei corsi Di formazione Che spesso Sono anche tenuti Da dei professionisti Perché bacca È formata Da gente Di qualsiasi Tipo Ci sono anche Professionisti Tipo psicologi E quant'altro Quindi Che sono Giustamente Professionisti Nel momento in cui Fanno la formazione Ma che diventano Persone comuni Nel momento in cui Poi dopo Operano all'interno Di bacca Giusto Nel senso Che poi Ogni road name Poi Esatto Noi siamo solo Lilo sulla sua moto Elettrico sulla sua moto Quello che facciamo Nella nostra vita Diciamo Privata Rimane privato Prima di pubblicità Parlavamo Della cerimonia C'è questa cerimonia Level one Si chiama giusto Esatto Che avviene Quando appunto Un bambino Viene preso in carico Dalla coppia Di bacca Come funziona Cosa avviene Praticamente viene Dedicata questa giornata Al bambino Che Non sa bene Che cosa lo aspetta Perché deve essere Una sorpresa Per lui E si organizza Il tutto In un luogo Diciamo sicuro Lontano da occhi Indiscreti E viene proprio Organizzata Proprio una cerimonia Quindi viene portato Il bambino Sul luogo Al che Arrivano Tutti I bikers Perché Quando viene Fatta una cerimonia Viene Divulgata A tutti i chapter Sia Italia Che estero Potrebbero venire Anche dei bacca Dall'estero E si presentano Si schierano Di fronte al bambino Che li guarda Con occhi sgranati Anch'io lo farei Credo Anche noi E poi cosa succede Succede Che Durante questa cerimonia Viene dato al bambino Un gilet Come il nostro Sul quale Noi abbiamo Precedentemente Cucito Il suo Roadname Delle toppe Delle patch Simili alle nostre E praticamente Con questa consegna Di questo gilet Sancisce L'ingresso Nella famiglia Baca E poi Gli diamo Altri Diciamo Altri regali Altre cose C'è la consegna Di un orsetto Che prima di essere Consegnato Viene Caricato In che senso Apile Energia solare No Com'è che viene caricato Praticamente Noi consegniamo Questo orsetto Al bambino Dicendogli Che questo orsetto Abbracciandolo Lui potrà sentire Tutta la nostra forza Prima di consegnarglielo Ce lo passiamo Ci abbracciamo Fra di noi Con in mezzo L'orsetto E gli diciamo Che lo carichiamo Degli abbracci Quindi ci fossero Anche 80 bikers 80 bikers Si passano L'orsetto Uno a uno E poi viene dato Appunto Questo Esatto E' capitato Che E' capitato Che un bambino Ci ha richiamato Per dirci Si è scaricato L'orsetto Quindi ci siamo Non tutti Non tutti Ma chi ha potuto Furbetto Un bambino Voleva rivedere Tutte le moto Voleva Ha fatto bene Bravi Bravissimi Hai fatto benissimo Hai fatto bene Ricordiamo Che un po' Però di coordinate Appunto Perché magari Qualcuno Che ci sta sentendo In questo momento Dice Beh ma è interessante Questa cosa Allora Prima un'altra cosa Interessante questa cosa Ma io Non ho la moto Non sono andato in moto Allora Per far parte di Baca Bisogna avere la moto Deve essere almeno 250 cc di cilindrata E bisogna aver compiuto I 21 anni Ok Oltretutto Bisogna presentare Casellario giudiziale Ah beh giusto Giusto Questo è interessante E importante Però Vabbè Io Ho la moto Ho una 250 Però E' poco che vado in moto Non è tanto Che vado in moto Non sono come voi Che sono Decenni Decenni Andati in moto Si impara Ecco Poi L'importante è quello Che sia dentro Non quello che sia Esatto Si può fare anche La zavorrina Cos'è la zavorrina Si va in moto Insieme a un'altra persona Ci sono Non tutti Tuttissimi hanno la moto Ok Io ho iniziato Come zavorrina Per esempio Ah Ok Ma tu Non è tantissimo Che sei una biker No Non so Mai un po' No Ho comprato la moto Per fare Bacca Ah Perché Bacca E' talmente Grande E' talmente Una cosa Bella Che Ne valeva la pena Veramente Sì E Appunto Quindi Diciamo Il gruppo E' veramente Immenso Nel mondo Quanti siete più o meno Vi siete contatti Una volta Siamo abbastanza Per aiutare Più bambini Possibili Mi piacciono Le risposte L'ambasciatore Qua Le risposte Diplomatiche Mi piacciono Complimenti Bravo 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 Elettrico La dicevo Se qualcuno Vuole La moto La 250 Tanti anni Che va in moto Gli piace Quello che fate Come si può fare Per avvicinarsi A Bacca Abbiamo un sito Che è www.baccaitaly.org In questo sito Può trovare Tutte le sedi D'Italia E ci sono Tutti i numeri Di helpline Gli indirizzi E-mail Quindi Può scrivere Un indirizzo E-mail Può contattare L'helpline E noi rispondiamo Viene invitato A una delle nostre Riunioni Dove si fa Diciamo Un colloquio Gli si spiega bene Che cos'è Bacca Cosa fa Bacca E poi sarà lui A decidere Fate tanti Siete spesso in giro Diciamo Ovviamente avete una moto Giusto La teniamo in garage Questo weekend Sarete Ad Abbiate Grasso Invece Che cosa succede? Sì Diciamo che Spesso Veniamo invitati Ad eventi E ci permettono Di mettere Il nostro gazebo Per dare informazioni Per promuovere La nostra organizzazione Per farci conoscere Questo weekend Esatto Saremmo ad Abbiate Grasso Al Custom Festival 4F Perfetto Ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Davvero Portate i saluti A tutta Bacca Ricordiamo il sito Ancora di una volta Prima di www.baccaitaly.org Perfetto Lì trovate tutte le informazioni Insomma Se volete Approfondire C'è la possibilità Lì Le ho lette Qui Vi ringrazio tantissimo È stato molto interessante Conoscere questa realtà Io non vedo l'ora Di vedervi Con le vostre moto E vedere Insomma Questa energia Voglio anche io L'ho stato caricato Mi sa che sei un po' In là con l'età Sono un po' in là con l'età Pazienza Sono contento Però che appunto La vostra energia Invece vada Dove ce n'è davvero bisogno E speriamo appunto Che anche a Milano Si riesca finalmente A dare Tutta questa Tantissima carica energetica Che avete dentro Poterla dare A chi ne ha davvero Davvero bisogno Grazie mille ancora Grazie a voi tutti Spero di rischi di presto Se poi fate aggiornamenti Cose Noi siamo qua Siamo qua pronti Ad aspettarvi Tanto Basta che passate davanti Date una sgasata Capiamo che siete voi E vi apriamo Va bene Ok Grazie Grazie ancora Lilo Grazie ancora D'Elettrico Andiamo avanti con un po' di musica Allora sono i Dire Straits Con Money for Nothing E poi di nuovo qui Per i saluti finali Alle 8 e 46 minuti Su Crystal Radio Questa è Good Morning Milano A fra poco